Si è parlato di libertà di informazione e deontologia del giornalismo nel seminario incontro Non esiste giornalismo senza libertà organizzato dall'Università di Macerata e svoltosi nei giorni scorsi nell'Aula Magna d'Ateneo. Ospite d'eccezione Antonio Rocuzzo, caporedattore dell'emittente televisiva La Sette che presentando il suo ultimo romanzo autobiografico ha raccontato la propria esperienza professionale e di vita nella Catania violenta degli anni Ottanta. Penso che comunicare chi ha fatto un percorso di libertà tra mille fatiche, tra mille problemi ma insomma che alla fine fa il giornalista in una testata nazionale che può essere per molti ragazzi un obiettivo da raggiungere e raccontare come il giornalismo ha bisogno di sempre più libertà in Italia sia una cosa che loro si aspettano da chi ha fatto un percorso. E secondo me ce n'è bisogno, in qualsiasi democrazia non c'è mai sufficiente buona informazione, completa informazione. L'incontro fortemente voluto e promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione che riconoscerà anche crediti formativi ai partecipanti ha visto l'adesione di molti studenti interessati a capire come occorre comportarsi in un panorama complesso e condizionato come quello editoriale italiano. Mi dà sempre una forte emozione condividere con i miei studenti delle esperienze così di ampio respiro è il senso e il significato dell'università secondo me quello di riuscire a trovare dei momenti in cui non ci sono più neanche queste grosse differenze tra docente, studente, dottorando. Siamo persone che partecipano a una crescita professionale, culturale, formativa e io penso che questa di oggi sia stata veramente una bella occasione per tutti noi.